Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di incontrare un amico oltre che un grande esperto di storia medievale perché ha appena pubblicato per Salerno editrice Manfredi di Sveglia, erede dell'imperatore, nemico del Papa, protagonista del suo tempo. Stiamo parlando dell'autore che è Paolo Grillo, al quale io come mia abitudine lascio subito la parola per non rubarvi altro tempo. Benvenuto, grazie e a te la parola Paolo. Bene, grazie Maurizio, sempre un ospite squisito, sono molto contento di essere qui, sono molto contento penso di ritrovare la maggior parte di voi, visto che ormai sono un abitué di Italia Medievale e oggi sono qui per dire qualche parola su questo ultimo libro che ho pubblicato appunto con Salerno editrice che è Manfredi di Sveglia e che insomma è la mia prima prova come biografo e devo dire che è stata un'esperienza interessante, è stata un'esperienza costruttiva anche se è stata una sfida per molti versi difficile. Innanzitutto chi è Manfredi di Sveglia? La maggior parte di voi probabilmente lo conosce per il famosissimo verso di Dante, bello e re biondo e di gentile aspetto con cui appunto il petta lo introduce, meglio introduce l'anima di Manfredi sulla spiaggia dell'antipurgatorio dove con un gruppo di appunto di anime purganti sta attendendo di poter salire la matagno del purgatorio per poter scontare la sua pena. E in effetti l'occasione per la pubblicazione di questo libro è stato l'anno dantesco, il 2021 appunto con il settembre scenario della morte di Dante ha visto una grandissima attenzione non soltanto per Dante ma anche per diciamo per i coprotagonisti della grande epopea della commedia dantesca e Manfredi è di sicuro uno di quei personaggi che proprio per la potenza del ritratto che ne fa Dante ha lasciato una traccia. Ma la sfida nell'appunto affrontare, confrontarmi con la vita di Manfredi è stata proprio quella di non rimanere prigioniero dell'immagine dantesca. Dante non è tantissimo interessato al Manfredi storico nel presentarne il ritratto nell'antipurgatorio ma è interessato a fare di Manfredi un simbolo, ossia il simbolo della misericordia divina per cui Manfredi che era stato scomunicato più volte dai papi e per questo in teoria ce lo saremmo aspettati all'inferno in realtà nell'idea di Dante ed era una voce che all'epoca circolava si era pentito all'ultimo momento degli orribili peccati perché Manfredi stesso dice orribili furo li peccati miei quindi delle colpe si era macchiato che erano di vario generi insomma dal sospetto omicidio del fratello a una serie di atti contro i diritti della chiesa di persecuzione di nemici politici e non ultimo la dettronizzazione del nipote che il trono di sicilia non sarebbe aspettato a lui ma al nipote corradì ma ci torniamo su queste cose nonostante tutto questo un pentimento tardivo ma sincero è bastato salvare l'anima di Manfredi quindi Dante vuol cantare la misericordia divina vuole descrivere l'immensa capacità e a dio di perdonare anche solo per una parola sussurrata poco prima di morire quindi Manfredi viene presentato come una figura positiva ma positiva nel momento in cui si è riconciliato con dio non come una figura in assoluto così tant'è vero che la stessa diciamo potenza di quel rifatto belle ragionte di gentile aspetto che era vero perché anche altri cronisti dell'epoca ci affidano questo ritratto di Manfredi come persona diciamo di fascino estetico ma anche di piacevolezza di persone era uno amava cantare aveva la battuta pronta era un uomo di grande cultura quindi doveva essere una persona affascinante ma sfigurato dalle ferite ricevute in battaglia che in qualche misura sono anche le ferite hanno una duplice valore no mostra Dante una ferita infatti e una ferita al petto che da un lato mostrano il fatto che lui è morto combattendo sono ferite sono le ferite del guerriero che cade mostrando il volto e non la schiena al nemico non sta fuggendo ma d'altro canto appunto sfigurano questa immagine come il peccato ha sfigurato la sua vita precedente quindi si tratta di non restare appunto prigioniero del mito di Manfredi e cercare di invece ricostruirne la figura storica quindi un'opera se vogliamo cercato di fare anche un po' iconoclasta perché col passare dei secoli soprattutto nel corso dell'ottocento romantico Manfredi ha preso una dimensione politica storica no quindi un po' il campione della laicità contro il il clericalismo totale è stato speso così nel dibattito politico ottocentesi portando in realtà molto i termini ma ovviamente era una tentazione affascinante perché il papa alleato con un francese Carlo Dandò contro un italiano Manfredi negli anni della questione romana suonava troppo bene in cui il papa era alleato con Napoleone terzo di Francia contro magari Emanuele secondo no quindi il gioco dell'attualizzazione politica del passato ha portato a una ricostruzione falsa però della figura di Manfredi quindi da un lato c'era un po' la volontà di riportare al dato storico la figura di Manfredi e il dato storico è una figura estremamente sfaccettata appunto doveva essere una persona diamo intanto qualche coordinata Manfredi nasce nel 1232 è un figlio illegittimo nasce da una delle tantissime amanti di dell'imperatore Federico II forse quella con cui a cui Federico II è stato fedele da quanto e le potesse essere uno che ha avuto una quantità a tutt'oggi non calcolata di mogli e amanti occasionali nasce illegittimo ma Federico II con i figli illegittimi aveva tendenzialmente un buon rapporto li utilizzava come oggetti di scambio politico contandogli responsabilità di governo e in effetti Manfredi affianca il padre in una serie di operazioni politiche diplomatiche finché il padre progetta di fargli sposare la figlia del conto di Savoia e di renderlo sostanzialmente responsabile del governo dell'area alpina matrimonio politico la figlia del conto di Savoia ha quasi il doppio dell'età di Manfredi Manfredi ha 15 anni e probabilmente la moglie fra i 25 e i 30 ha già avuto un figlio e una figlia che hanno quasi l'età di Manfredi un'operazione esclusivamente politica non sentimentale e si arena e va avanti abbastanza lungo finché Manfredi non viene legittima Federico II sposa la madre di Manfredi che era una nobile piemontese bianca lancia in estremi se in questa maniera legittima anche Manfredi rendendolo tra le altre cose più particolari del mercato matrimoniale alla morte di Federico II nel 1250 Federico lascia un testamento in cui Manfredi si trova in una posizione abbastanza strana nel senso che il primo in ordine ereditaria il fratello maggiore Torrado Quarto su questo non ci sono problemi il secondo nella linea ereditaria però il fratello minore Enrico Carlotto e Manfredi è solo terzo perché? Perché probabilmente Federico lo considera entrato nella linea ereditaria non con la nascita ma con la legittimazione quindi essendo stato legittimato dopo che era nato Enrico Carlotto Manfredi risulta terzo con questo però Manfredi riceve delle responsabilità di governo importanti perché praticamente l'impero e il regno di Federico vengono divisi a Corrado Quarto la Germania e l'Italia settentrionale Manfredi l'Italia meridionale Enrico Carlotto la Sicilia tra i figli di tre madri diverse che devono spartirsi l'impero è la premessa ovviamente ha una catastrofe la catastrofe si compie fra il 53 e il 54 quando Corrado Quarto c'è in Sicilia cerca di sbarazzarsi di Manfredi si sbarazza di Enrico Carlotto molti dicono facendolo avvelenare e poi improvvisamente muore anche Corrado Quarto e tutti i sospetti si appuntano su Manfredi non sappiamo se Manfredi abbia davvero ucciso il fratello perché non ci sono prove e Corrado era giovane quando muore un principe giovane subito si spargono sospetti di omicidio ma non ci sono sostanzialmente veri indizi in questa direzione quello che però Manfredi fa piuttosto cinicamente è prendere la tutela contro la volontà del fratello del nipote Corradino che era il figlio di Corrado Quarto e reinare al suo posto segue una lunga guerra civile contro altri pretendenti al trono meridionali e il papa che in base a vecchi accordi con i predecessori di Federico II rivendicava la sovranità sull'Italia meridionale guerra in cui Manfredi si dimostra anche un valido comandante un abile politico finché nel 1258 Manfredi non riesce a farsi incoronare mettendo in giro la voce falsa che Corradino fosse morto quindi sottrae sostanzialmente il trono all'egittima erede che era lì fra il 58 e il 63 e il 64 Manfredi conduce una politica molto interessante adesso non possiamo soffermarci ma insomma in chiave italiana e mediterranea italiana appoggiando i partiti Ghibellini al nord e anche contro altri Ghibellini per cui prima appoggia un grande signore Ghibellino Alberto Pella vicino in Lombardia contro il rivale Ghibellino e Zellino da Romano che però partitava per Corradino e poi è uno dei protagonisti della grande vittoria di Monteverti ottenuta dai senesi e dagli altri Ghibellini toscani contro nel frattempo morta la prima moglie sposa la figlia del signore De Piro e quindi comincia una politica anche adriatica volta a porre sotto il controllo il mare adriatico ha buoni rapporti con i principi mediterranei in particolare con i re d'Aragona tra i quali sposa sua figlia realizzando così un'alleanza matrimoniale forte e tutto questo lo pone in contrasto col papa anzi coi papi che in successione lo vedono come sempre più assumere il ruolo e l'eredità del padre Federico II nemico accanito negli ultimi anni della chiesa e i papi cercano di contrastarlo in varie maniere da un lato colpendolo finanziariamente cercando di impedire ai mercanti delle città che si erano aschierati da Montfredi di operare e commerciare in Europa dall'altro ponendogli un rivale che è Carlo del Gio l'ultimo figlio il fratello più piccolo da Radifrancia in carica Luigi San Luigi IX e alla fine appunto finanziando sostanzialmente la spedizione militare di Carlo D'Anton contro Manfredi Manfredi che negli ultimi anni di vita ha un atteggiamento piuttosto strano che emerge dallo studio dei documenti molto passivo in effetti Manfredi sebbene si proponga come l'erede di Federico II ha un atteggiamento completamente opposto Federico II era un viaggiatore tremendo passava dalla Sicilia all'Italia settentrionale alla Germania alla Provenza in più ha fatto anche la crociata un uomo di un dinamismo di un'esuberanza incredibile un uomo che quasi tutti i suoi sudditi potevano dire di aver visto almeno una volta Manfredi è assolutamente passivo se può non si muove da un triangolo di centri in capitanata delle parti di Melfi dove ha i suoi castelli sul suo buon ritiro diciamo e questo lo danneggia molto lo danneggia molto perché non riesce a controllare la situazione nel momento in cui la minaccia di Carlo D'Anton si fa davvero seria e soprattutto in Italia settentrionale dove nessuno l'ha mai visto quindi a un certo punto quando le forze di Carlo D'Angio passano le Alpi entrano in Lombardia i ghibellini di Lombardia e di Toscana sono chiamati a mobilitarsi per un principe che non hanno mai visto non conoscono e non ci si può meravigliare la mobilitazione abbastanza fiacca in realtà la vicino lascia passare senza davvero tentare di opporsi Carlo D'Angio i toscani quando gli viene chiesto di mandare dei contingenti nel sud mandano qualche decina di uomini al posto delle parecchie centinaia o migliaia che Manfredi si sarebbe aspettato Manfredi sostanzialmente e anche i suoi sudditi hanno un atteggiamento abbastanza freddo perché anche lì cioè fuori dalla campagna l'hanno visto veramente poche volte fuori dalla capitanata scusate l'hanno visto davvero poche volte e in compenso hanno dovuto pagare tasse altissime per questa ambigliosa politica militare anche di area mediterranea soltanto la dote per la figlia Costanza nel nel matrimonio con Pietro d'Aragona era costata in pazza in sudditi del re in una cifra scontificata quindi al momento decisivo quando deve affrontare Carlo D'Angelo a Benevento sostanzialmente Manfredi può contare soltanto su mercenari tedeschi pagati con asse del ricco meridione con saraceni di Lucera sui saraceni di Lucera cioè sui gli arabi i musulmani di Sicilia che erano stati fedeli e suo padre e sono fedeli anche a lui e poco altro perché in realtà l'aristocrazia meridionale lo abbandona poco dopo all'inizio del combattimento combattimento che a questo punto è segnato e vede la sconfitta di Manfredi la morte siamo nel 1266 e la parabola di Manfredi re si compie nell'arco di otto anni realmente pochi ma estremamente interessanti perché per più di un motivo ma la cosa che a me ha affascinato di più è che Manfredi è stato un po' un prisma attraverso il quale si poteva ricostruire la storia di Italia cioè questo da un lato lui è re di Sicilia governa il regno fa una serie di iniziative anche di riforme importanti per migliorare diciamo le strutture di governo migliorare adattarle a dei tempi più difficili rispetto a quelle paterne colloca suoi parenti e uomini di fiducia in tutti i posti chiave ma costruisce veramente una ragnatela di uffici grazie ai quali effettivamente può governare senza praticamente mai muoversi dalla Puglia dall'altro lato a questa politica intensa anche nell'Italia centro-settenzionale una serie di spedizioni militari nel Lazio e nelle Marche questa presenza in Toscana militare determinante per la sconfitta di Firenze a Montaperti ma che diventa una presenza politica una capacità anche di dialogo con le forze di Belline Fiorentine eccetera e poi questa presenza più mediata nel settentrione ma comunque anche diretta mando ufficiali suoi anche lì assume il controllo di diverse regioni del Piemonte e si presenta anche se sempre a distanza sempre tramite questi cani che manda in giro come un'interlocutore forte un'opzione forte per le città del centro-nord che sono un po' alla ricerca di stabilità e questa apparentemente è Manfredi ecco in una storia d'Italia che troppo spesso si svolge per capitoli paralleli l'Italia comunale del centro-nord e poi quando si finisce di parlare dell'Italia comunale del centro-nord passiamo a quello che succede nel regno di Sicilia nel sud o viceversa finito di parlare del regno di Sicilia nel sud passiamo a vedere l'Italia comunale nel centro-nord in cui appunto sembra che queste due metà dell'Italia seguano itinerari completamente separati l'esperienza comunale con tutti i suoi pregi partecipativi rivoluzionari economici ma anche tutte le sue tutte le sue crisi tutti i suoi disordini nel centro-nord e invece nel centro-sud la costruzione di una monarchia relativamente centralizzata relativamente pacificatrice spesso poi questa cosa finisce spesso no ma qualche volta finisce addirittura in duello no noi eravamo più democratici sì ma noi avevamo una burocrazia che funzionava meglio ecco Manfredi diventa una chiave invece per leggere per vedere le connessioni fra queste due Italie che non sono affatto separate anzi sono connessissime e sfumare la radicalità di questa contrapposizione per cui ci sono città del nord come Siena ma il centro-nord come Siena ma anche tante altre città Alessandria molti centri martigiani che vedono nella monarchia nella sottomissione a un re una soluzione plausibile per garantirsi stabilità e appoggio militare e ci sono tante città del centro-sud che come dice esplicitamente un cronista meridionale anonimo passato sotto il nome sbagliato di Iamsilla che guardano esplicitamente vogliono fare come in Lombardia e tentano di approfittare delle crisi di potere dei vuoti di potere che si creano alla morte prima di Federico II e poi di Corrado IV per vivere un'esperienza comunale anche se poi relativamente breve e abbastanza presto repressa dalle forze rete quindi uno dei dei punti affascinanti della vita di Manfredi che mi ha così particolarmente interessato è stata proprio questa prospettiva di poterlo usare come chiave per dare una lettura di storia italiana del duecento e non soltanto di storia di un pezzo d'Italia e poi c'è l'ultimo elemento l'ultimo elemento che alla quale non avevo pensato iniziando a lavorare ero pensavo a queste cose che pensavo appunto alla dimensione politica alla dimensione militare la dimensione culturale Manfredi è un personaggio fascinante come dire sposa a questo cinismo politico alla spiegatezza di far morire in carcere i suoi avversari politici sposa anche però la capacità di dialogare con gli intellettuali del suo tempo di produrre far produrre opere letterariamente pregevoli far tradurre alcune fra le più importanti opere scientifiche greche e soprattutto arabe di regalare questi libri alle università di Parigi per esempio per mecenatismo anche per propaganda ma anche per così far circolare la sua idea di cultura un personaggio affascinante e appunto questo elemento cioè a un certo punto mi è venuta la curiosità di conoscere meglio Manfredi non ero partito con una grandia anzi ero partito molto scettico l'idea che a 700 anni o quasi 800 di distanza ti potesse davvero cercare di vedere l'uomo e non solo la figura politica e in effetti non ci sono riusciti a vederlo perché le fonti non ce lo consentono le fonti sono estremamente mediate non abbiamo un diario non abbiamo lettere personali non abbiamo nessun tipo di testimonianza diciamo diretta della vita di Manfredi no? Contestualmente il suo contemporaneo è Luigi IX di Francia con Luigi IX abbiamo il diario di un uomo di corte che è Henri de Joinville che è proprio un diario modernamente inteso e quindi ci permette di avere un sacco di informazioni sulla vita diciamo privata per Manfredi non abbiamo niente di tutto questo però la curiosità mi è venuta e allora così mi sono un po' confrontato cercando di capire l'uomo Manfredi che cosa possa voler dire essere il figlio illegittimo di un imperatore un imperatore abbastanza anaffettivo perché Federico II era uno che per dire nel 1249 un altro suo figlio illegittimo ma a cui lui era molto legato Enzo viene catturato dai bolognesi alla Fossalta i modenesi gli scrivono sgomenti maestà suo figlio è stato catturato nelle mani dei bolognesi e lui risponde non c'è problema la fortuna o molti altri figli quindi insomma un padre diciamo un po' cinico cosa vuole dire appunto un padre che ti sposa a 16 anni a una donna che ha da tre figli e dieci anni di te cosa vuole dire cosa vuole dire avere una vita spirituale di una certa intensità almeno lui lo dichiara e contestualmente però essere in pessimi rapporti con la chiesa e non poter fare affidamento diciamo sul clero e sui religiosi che in realtà sono una parte fondamentale invece della vita medievale e perché questa appunto questa così relativa passività nel governare il regno perché questa quasi rassegnazione che mi sembra che l'abbia colto negli ultimi mesi della sua vita questa sfida lanciata da Carlo D'Angio ecco alla fine devo dire che sono cascato anche io nella trappola di bibliografia e mi sono fatto un po' affascinare dal soggetto delle mie ricerche e così ho un po' invidiato Dante che almeno nell'immaginazione l'ho potuto conoscere molto meglio di quello che l'ho conosciuto fantastico fantastico è incredibile la brevità della sua vita politica e militare perché finisce tutto nel 1266 cade sul campo di battaglia e quindi tante risposte non le avremo mai però è sicuramente un personaggio tu dici affascinante io dico intrigante cioè sia affascinante nel bene come nel male rimango convinto che fosse una persona pericolosa affascinante ma pericolosa come tanti come tanti come tanti perché le due cose si sposano bene insieme insomma Paolo io ti ringrazio davvero tanto ricordo subito ai nostri videoascoltatori il titolo del libro così possono correre in libreria acquistarlo e scoprire questo personaggio così particolare il libro è Manfredi di Svevia erede dell'imperatore nemico del papa protagonista del suo tempo l'autore Paolo Grillo che è stato nostro ospite pubblicato da Salerno editrice da pochissimo quindi è una novità che è già datata a 2022 per cui correre sicuramente in libreria e farlo proprio io ti ringrazio davvero tanto del tempo che ci hai concesso spero che si ringrazio per l'ospitalità figurati mi piacerebbe poi riuscire anche a tornare in presenza presentarlo sarebbe volentierissimo se appena appena liberano le gabbie sì va bene Paolo grazie ancora e a presto grazie Maurizio un saluto a tutti a tutti grazie a tutti